Non va bene così come è strutturato l'incrocio che porta all'abitato di Zermen dalla statale 50, in località Pasquare. Ecco perché il comune di Feltre vuole porre in sicurezza uno dei punti critici della viabilità cittadina. Ne ha parlato l'assessore ai lavori pubblici Andrea Bona. Questo è un tema che destra un forte preoccupazione nella popolazione, un resto stradale molto difficile perché ci sono la strada che scende, Cester che sale verso Zermen via Tevere, via Traffego che scende verso Vellai, la statale, non è facile la soluzione. C'era una somma stanziata nei fondi di confine del 2021 che prevedeva una rotatoria. La soluzione è proprio per lo stato fisico delle cose di estrema difficoltà. Abbiamo optato per un sistema di semafori temporizzati, per cui in sostanza ci saranno una serie di semafori, tra cui anche quello esistente, che entra a far parte della nuova sistemazione, sincronizzati fra di loro che garantiranno la soluzione dei problemi del traffico in quest'area. Con le somme a disposizione verranno anche apportate alcune migliorie all'area e continuerà ad essere garantita la sicurezza dei pedoni. Praticamente il semaforo esistente viene integrato nella nuova soluzione a semafori temporizzati. Per cui c'è la massima garanzia verso l'utenza debole. È un sistema tecnologicamente complesso che va studiato bene, però ci sono tutti i sistemi per risolverlo in modo brillante.